La Caritas Diocesana ha presentato alla stampa locale i progetti e annunciato la prossima fine lavori della nuova sede in via Giovanni XXIII. Venerdì 11 dicembre si è svolta la conferenza stampa di aggiornamento sulla nuova sede presso la sede attuale della Caritas Diocesana. I progetti seguiti insieme alla Fondazione Padre Oscar come risposta alla mancanza di lavoro e la collaborazione sul territorio con le istituzioni e le Caritas parrocchiali e le iniziative di Natale. Il direttore, il diacono Marco D'Aurizio e il vice direttore Matteo Donati si sono alternate nell'illustrare le attività. Tre sono i progetti della Fondazione Centro Servizi Padre Oscar e Onlus in collaborazione con Caritas Iesi per attutire il problema della mancanza di lavoro e che hanno il sostegno di Caritas Italiana. Orto del sorriso, mani di fata e tirocini formativi sono un modo per dare speranze e aiuto a chi si trova in una fase di grande disagio e depressione per la perdita del lavoro o per le difficoltà a trovarne. Mani di fata e il laboratorio di artigianato femminile presso i locali della Caritas di via San Giuseppe e si svolge sotto lo slogan un sogno cuscito a colori. I prodotti sono offerti poi nei mercatini natalizi e grazie alla generosità dei cittadini il progetto sta riuscendo nel suo scopo di offrire lavoro a donne che si trovano in una situazione economica difficile. L'orto del sorriso è in via Calabria, si estende su una superficie di un ettaro e promosso dalla Caritas della parrocchia di San Giuseppe in collaborazione con la Caritas di Ocesana. Offre lavoro a sei persone ed è aperto alle scuole con cui preparare percorsi didattici. I tirocini formativi si svolgono con la disponibilità delle aziende e hanno la durata di sei mesi. La fine lavori della nuova sede di via Giovanni XXIII a Iesi è prevista per il mese di febbraio e poi inizierà l'allestimento degli interni, il graduale trasferimento dei servizi e l'apertura dei nuovi. L'ultima iniziativa organizzata dalla Caritas a conclusione di un anno intenso è la festa di Natale per tutti i bambini, aperta soprattutto a coloro che in un giorno così speciale non possono ricevere regali. Così Babbo Natale, invitato dalla Caritas di Ocesana, ha parcheggiato la sua slitta carica dei doni e con l'aiuto dei folletti ha distribuito regali e sorrise a numerosissimi bambini che lo attendevano in un'ambientazione a dir poco magica. Sabato 19 dicembre si è invece svolto l'incontro con i referenti delle Caritas parrocchiali per fare una verifica dell'anno 2015 e per condividere le scelte future.